ciao a tutti da me e da pomettino molto bene allora con tutto il tavolo sporco di fucsia andiamo a pescare i colori di oggi e poi vediamo che cosa creare ovviamente peschiamo è uno è non l'ho pescato quindi rifacciamo ok eccolo qui guardate che carino vediamo chi è tanto voi lo sapete già non riesco ad aprirlo ce la farò non lo so è eminem emi 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 c'è del viola oggi molto molto bene adesso la vado a prendere così vediamo bene i colori perché tutti non me li ricordo e tutto 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 me li segno e facciamo tutto con calma molto bene molto bene eccola qui vicino a pomettino guardate che carina guardate com'è bella molto molto bene allora stavo pensando che lei ha tanti colori con tante sfumature diverse ovvero c'è il viola questa specie di magenta ma che cavolo ne so poi c'è un altro lilla un altro viola il fucsia il nero il bianco l'argento il viola anche qui ad avere un sacco di colori simili ma con sfumature molto diverse quindi essendo che lei c'ha anche il bianco pensato di fare con il petri dish ma la rischio un po perché come sappiamo il viola molte volte diventa marrone però io la voglio rischiare perché sono davvero troppi colori con troppe sfumature e diventerai matta a fare bicchiere per bicchiere quindi la butto sul petri dish la rischio molto anche così però però ci proviamo adesso effettivamente mi devo segnare i colori perché sono davvero tanti che poi in teoria al viola magari quando metto il viola ci buccio ci spruzzo molto più bianco così da magari ottenere anche una specie di lilla non lo so sarà un esperimento un po complicato secondo me però siamo qui per creare quindi creiamo molto bene allora come stampo ho deciso di usare ancora questo però questa volta senza metterci nessuna texture non la vuole nemmeno mettere a fuoco incredibile solamente uno stampo gigante ma non lo vuole mettere a fuoco come stavo dicendo non metterò nessuna texture lo lasciamo questa volta qua bello bello libero da qualsiasi stampo molto bene poi qui ho segnato tutti i colori almeno penso speriamo che io li abbia segnati tutti e quindi abbiamo qua ovviamente il bianco l'argento e il nero poi per quanto riguarda viola lilla magenta fucsia ho preso questi tre allora questo è un po più per il fucsia questo mi sembra l'altra sfumatura che ha nei capelli sembrano questi due ok questo invece quello che è sulla maglietta invece per il lilla come dicevo prima cercherò di mettere molto bianco in alcune parti del viola ok e vediamo che cosa succede poi io adesso preparo la resina e tutto nel caso poi che avanzerà ovviamente la resina a fare qualcosa ma poi vediamo comunque questa è la mia idea incrociamo le dita e cominciamo molto bene allora ho preparato la resina adesso aperto i colori e spruzziamo l'alcol e soprattutto incrociamo le dita che non esca troppo marone perché col viola rischio molto perfetto ancora un boccino molto bene molto molto bene ora fatemi controllare le bolle spruzziamo qua ci sono i miei colorini che li mettiamo qui e ovviamente dobbiamo partire partirò dal dall'argento che come ben sappiamo tende a farsi cavoli suoi e a sparire molto bene poi non lo so inutile che penso da cosa partire partiamo e basta qua col viola che poi ho scelto i viola di della marca un po china perché appunto hanno più sfumature dei pinata che ho io almeno quindi boh vediamo anche un po nella speranza che magari venga come si dice meno marone sto sperando troppo e chi lo sa ok questo l'ho messo poi questa questo mi sembra veramente uguale a con i capelli parte che sta uscendo a spruzzo nemmeno allora per il momento secondo me con questi con questi colori ci stiamo incredibilmente avvicinando alla meta e il lillino si incomincia anche a vedere almeno da dietro mettiamo il fucsia questi sono colori abbastanza simili comunque fucsia viola questo che cavolo è boh quindi non lo so sono abbastanza fiduciosa ma anzi un po meno perché è il viola appunto che oppure che diventa marone a parte che sto anche mettendo una sbraga di bianco ok e adesso manca il nero di nero ne andrò a mettere una goccia così buon bellissimo però da dietro adesso comunque mi ha avanzato abbastanza resina da fare qualcos'altro molto bene e io non so se c'è un po di viola nel nero chiedetemi perché verranciaparotte ve lo dico io sapete che ogni tanto la testa mi prende e continua a fare robe comunque adesso alcolizziamo qui tac molto molto bene questo qua è stato fatto adesso tutto ciò che deve succedere succede e niente adesso mi metto a fare le altre creazioni sempre in petri ma è avanzata abbastanza resina quindi ci sarà qualche creazione in più e bene bene guardate come bello anzi focalizzatevi adesso bene su quello che state vedendo perché tra poco sarà tutto diverso cioè quando lo scopriremo per voi non passerà un tubo per me sì quindi vediamo che cosa succederà ancora qualche secondo perché non ho nemmeno il tavolo perfettamente detto quindi se la ballerà la resina chissà 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 molto bene allora eccoci qui con emi la tartaruga e pomettino molto bene allora come potete vedere ho fatto altre tre creazioni si è praticamente trasformato in uno scopriamo però vabbè questa volta vorrei partire subito dal cuore perché essendo che abbiamo fatto l'esperimento del fare uscire lilla e vedere un po' come si sono comportati questi viola alla fine le ho fatti tutti nella stessa maniera scoprire prima questo secondo me non avrebbe molto senso quindi voglio partire subito dal cuore che abbiamo fatto insieme e poi pian piano facciamo anche le altre e guardate cosa vi ho portato anche oggi una cacchina poi non dite che non vi voglio bene molto bene allora cuore 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 vi ricordate com'era voi sì perché l'avete praticamente appena visto si è tutto trasformato qui quindi direi subito di levarlo dallo stampo sarà ancora mollizzo l'importante è che non mi sozzi molto molto bene strano scoprirlo senza nessuna texture mi sembra molto strano uno due tre oh ma è meraviglioso ma è meraviglioso e si è formato lilla c'è non so tipo qui qui c'è l'argento dove c'è l'argento che stranamente questa volta qua si vede vediamo se scommetto troppo bene sembra quasi lilla wow è meraviglioso forse forse è un po' troppo fucsia sì è uscita un po' troppo fucsia e meno viola quindi chissà come mai però non vedo il marrone ok non lo vedo praticamente questa secondo me è perfetta per la maglia è bellissima solo che è sparito un po' di viola quindi cerchiamolo magari nelle altre creazioni vediamo magari nella mucca vediamo con calma ovviamente mi stavo sozzando tutta allora che fatica chissà chissà perché non si sono visti i viola mi sta abbandonando questo stampo allora con calma eh ce la farò vediamo senza spoilerarci troppo ma la vedo dura vediamo che qui almeno un po' di viola dai un pochito vediamo si è tutto fucsia anche questa però qui almeno si vede molto di più il nero e sì guarda proprio qua sotto vediamo la differenza ci sono ancora tutte molli però ci stanno secondo me ci stanno però sono un po' troppo fucsia secondo me mi sto anche sozzando con tutto lo stampo zozzo porca miseria poi orsetto a questo punto abbiamo capito che quei viola hanno puntato più sul fucsia a posto del questo non so se riesco a toglierlo dal marrone sono molto più contenta che sia uscito fucsia e non marrone ovviamente e sì che ne ho messo abbastanza di viola ci sono andata giù pesante qui viola anche perché non lo so non me lo so spiegare diciamo se è tornato vediamo oh 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 qui si vede un po' più di viola che belli però che sono cioè a parte che ok che non si vede il viola però sono usciti spettacolari guardate questo orsetto wow cioè è tutto qui e poi qua in mezzo si vede tutto l'effetto cioè wow questo è spettacolare no vabbè questo secondo me è quello che si avvicina di più non lo so sono rimasta senza parole per questo orsetto wow praticamente ero preoccupata che non venisse il lilla è venuto praticamente solo lilla e il viola è scappato vediamo nella cacchetta vediamo che poi si vede anche l'argento cioè si vedono tutti i colori tranne il viola vediamo ho scelto questa faccina questa qua sulla di dente se riesco a farvela vedere vediamo ok questo è completamente rosa ok questo se riesco a mettervelo a fuoco è uscito completamente fucsia praticamente queste mi sa che erano le creazioni che ne sono adatte per Stella in più che per Remy però a parte questo sono uscite delle creazioni meravigliose io i colori li ho usati tutti ma si sono trasformati un po' nel cavolo che volevano loro però devo dire che sono davvero molto soddisfatta perché sono davvero bellissime devo dire che quello che mi piace di più è l'orsetto perché è praticamente tutto qua tutto bianco e poi in mezzo guardate facendo così si notano tutte le scettine dentro wow poi si vedono anche di più i colori secondo me però va bene così sono molto molto soddisfatta soprattutto perché non è uscito il marrone continuo a ripetere ma perché veramente sono molto soddisfatta di questa cosa molto bene spomettino ti piacciono sei soddisfatto si molto molto bene quindi ora mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate di queste creazioni se avete voglia fatemi sapere anche quella è la vostra preferita e intanto vi ricordo instagram e link amazon giù nell'info box very very well pomettino saluta bravo io vi ringrazio di aver guardato il mio video vi mando un sacco di bacini ciao ciao ciao